due amici parlano ero al bar ieri e leggevo gli annunci sul giornale locale ho letto un annuncio che diceva cerco un uomo non più giovane di 40 anni che diventi il felice proprietario di una moglie meravigliosa bene tu hai più di 40 anni e stai cercando una moglie meravigliosa per cui questo annuncio sembra fatto appositamente per te hai provato a sentire no e perché no perché dopo ho continuato a leggere l'annuncio fino in fondo e non mi è piaciuto più perché cosa diceva diceva cerco un uomo non più giovane di 40 anni che diventi il felice proprietario di una moglie meravigliosa la mia ciao ciao